Eeeh, siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Deep and Crimini, sono state due settimane di attenza, di attenza, di pausa che hanno, volevo dire, è stata un'attesa molto lunga, poi ho cambiato, è stata malissima la puntata, volevo dire due settimane di attesa, poi ho cambiato espressione in corso d'opera, mi si è mischiato tutti. No, scusate, sono state due settimane di assenza, perché avevo bisogno di riposarmi un pochettino, avevo bisogno di richiarirmi le idee, grazie mille Simo, davvero, grazie mille, salutiamo Lucia che è al piano di sopra, ma è anche su Spreaker, Stasi è il fondatore, denuncia, non posso dirlo perché poi mi denuncia, e scusate, quindi innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti quelli che stanno ascoltando questa, questa puntata, anche chi l'ascolterà in futuro, è stato un anno abbastanza difficile per tutti, quindi una buona Pasqua, spero che abbiate passato una buona giornata con le vostre famiglie, a mangiare come i porci, e a riposarvi un po'. Due settimane dove non ho pubblicato praticamente niente, grazie mille a... Grazie mille, ti sta particolarmente a cuore Rossella, oh, bomba, grande Rossella, perché Rossella ha scritto che è una grande frequentatrice, ex grande frequentatrice del Midnight, che è un pub dove la vicenda delle due bestie di Satana è abbastanza interessante. Ringraziamo Francesca con un bacio, un abbraccio e un cuore per un'altra sub su Twitch, siamo su Twitch per chi non lo sapesse, siamo in 37 al momento, e quindi per chi vuole avere un'interazione un pochettino più... Vis-a-vis, che non so se si dica così, però è il titolo di una serie di Netflix, quindi mi sembrava così. Mi piace che Madda sta dicendo a tutti quelli che devono rinnovare il Prime, mi piace come sta addosso alle persone, bravo. Avevo bisogno di riposarmi un po', quindi settimana scorsa non vi siete persi nulla, ma io ero a un torneo ma non avevo particolarmente voglia di fare podcast, stasettimana abbiamo fatto una live con Andre su Instagram, quindi seguiteci su Instagram, dove dobbiamo arrivare almeno ai 2.000, forse sempre ai 3.000, ai 10.000, abbiamo arrivato al milione, ovunque. Andate ad ascoltare Deep in Scienza, perché Andre sta facendo una serie fighissima su le emergenze, su cosa fare se una persona sta soffocando, se una persona ha dei problemi. Comunque, molto bella, andate ad ascoltarla, è un po' tecnica, ma fidatevi che ne vale la pena, perché è molto, 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 figa, quindi ad ascoltare anche Deep in Scienza, e vi anticipo che ci saranno delle novità a prestissimo, forse già questa settimana, anche su Di Per Religione. Mi è venuta in mente una puntata, che non è la puntata che ho promesso a Sofia che sarà la prossima, ma è una puntata a cui tengo molto, che arriverà molto, molto presto. Partiamo, siamo in 50, incredibile, su Twitch, ci siamo almeno in 2, credo, su Spriche, e direi che è il momento di partire. Questo è un caso, anche se io non lo definisco caso, a cui sono, tengo molto. Sarà una situazione ibrida tra gli mass shootings, che mi avete chiesto tantissimi e che torneranno, non ero dell'umore per farlo, ve lo dico sinceramente, perché in questo periodo negli States ci sono stati due grossi mass shooting, e non lo so, mi sembrava tre, è una grandissima, non molto bene. Ci sono stati due grossi mass shooting, e so benissimo che il termine mass shooting trendizzava, e quindi sarebbe stato molto utile fare la puntata. So che trendizzava perché le mie puntate sui mass shooting sono andate molto bene in questi giorni. e quindi A, non volevo campare su delle tragedie più di quanto già non faccio, e B, non lo so, non mi sembrava carino parlare di una cosa che... è come adesso fare il caso di Ennis Pipitone, no? Sarebbe molto semplice mettermi qua e raccontare la vicenda. Però non lo so, non mi sembrava rispettoso, non mi sembrava... Non ero del mood per affrontare questa cosa. E come sapete, la scelta di un nuovo caso per me è sempre un po' un parto o tre gemellare. Nel senso che è molto difficile. E come vi dico sempre, che so benissimo che è una frase un pochettino paracula, ma è la verità perché è così, difficilmente sono io che scelgo un caso quanto un caso che sceglie me. In questo caso specifico non è un caso. Cioè non è il caso classico di Deepen, che quindi ho pensato qualche giorno se portarlo o non portarlo. Non c'è un omicidio solo, non c'è una situazione sola, ci sono tantissimi personaggi che poi sarà un po' il problema. Infatti la prossima puntata sarà sui personaggi delle bestie di Satana, ma non soltanto della setta, faccio le virgolette e poi vi spiegherò perché. Ma proprio tutte le persone che hanno gravitato intorno alla vicenda sono tantissime, bisogna capire i loro ruoli, cosa hanno detto, cosa hanno fatto, sarà difficile. Però è una vicenda che secondo me merita di essere raccontata. E qui lancio il primo retroscena, così iniziate a capire perché ho scelto questa vicenda. Io inizio a conoscere le bestie di Satana al di là di quando, nel 2004, quando c'è l'omicidio di Mariangela Pezzotta, ma in realtà quando, ciao la masica auguri a te, in realtà quando il caso scoppia è il 2004, e io avevo già 12 anni, quindi nel telegiornale le bestie di Satana poi hanno un nome molto catchy, hanno un nome molto che fa presa sull'immagine delle persone, i nomi di cui poi parleremo perché poi bisogna capire quanto è finzione giornalistica, ma di questo parleremo. Io vengo a conoscere le bestie di Satana un po' più da vicino, due, tre, quattro anni fa, quando guardo il classico documentario di Lucarelli. Ciao Zanda, benvenuta alla prima live, spero ti piaccia, grazie mille per essere con noi. Guardo il documentario di Lucarelli, bellissimo, molto coinvolgente, molto chiaro, e mi sembra una vicenda estremamente chiara. Torno a conoscere le bestie di Satana quando scopro che Paolo Franceschetti, che è un noto cospirazionista, beh, grazie mille a Cannax97 per un abbonamento di primo livello, grazie mille Cannax per la subscription, mi si è passato dalla lingua, scusa, oggi ho bevuto poco, c'ho la lingua, un bacio, un abbraccio, un cuore a Cannax97, chiedo scusa a chi ascolta su Spreaker, ma mi hanno fatto un abbonamento, quindi voglio ringraziare, grazie mille Cannax. Vengo a sapere che Paolo Franceschetti, che è un noto cospirazionista, così, è l'avvocato di uno, in realtà di due, ma io vengo a sapere che è di uno, delle bestie di Satana. Leggo, e su YouTube voi trovate, se avete voglia di sentirvi tre ore, mi pare che duri, se scrivete Paolo Franceschetti, bestie di Satana, c'è uno speciale di tre ore dove lui parla, si sente male, per cui non è piacevolissimo ascoltarlo, però potete ascoltarlo. E dice delle robe che io ritengo, francamente, un pochettino immaginifiche, un po' difficili da accettare, però va bene. e quindi ho sempre visto la storia, la narrazione delle bestie di Satana in questo modo, con dei fatti molto chiari e con una visione da parte di Paolo Franceschetti, che è un avvocato difensore di due personaggi che hanno preso l'ergastolo, o se non l'ergastolo, comunque un quasi ergastolo, ciao Sofi, grandissima, e che in linea di massima sul suo blog scriveva di cospirazioni, gente, poteri forti, massoneria, tutto quanto, e quindi non mi sono mai interessato. Però piano piano, leggendo su vari forum, leggendo su altre cose, mi accorsi, ripeto, di anni fa, che c'erano delle cose che effettivamente tornavano poco. Ultimamente mi sono visto qualche video, ho letto qualcosa su internet, ho trovato un blog molto molto interessante, che citavo ovviamente più avanti, e ho iniziato a informarmi, e quindi mi sono letto una motivazione, se non mi ricordo in che grado fosse, ed effettivamente ci sono delle cose molto molto strane, e molto molto interessanti. E quindi è una vicenda che parte, che doveva partire, questo podcast, come il banale raccontare una storia, che non avrebbe avuto senso, perché se mi interessa un podcast che racconta la storia, e lo fa molto meglio di come posso fare io, perché ci sono le interviste ai protagonisti delle bestie di Satana, ai parenti delle vittime, ai giornalisti, ai magistrati, a tutto, c'è Di Play, andate su Spotify, Di Play, bestie di Satana, trovate tutto. Io sento quel podcast sei mesi fa, più o meno, forse meno, però mi ricordo che faceva caldo, vabbè, non mi ricordo, comunque sei, sette mesi fa, sento questo podcast, che mi rinfresca un po' la memoria, e dico, ah, effettivamente è una vicenda molto lineare. In realtà, in questi giorni, ho riascoltato questo podcast, e dopo essermi un po' informato, su, su tutta la vicenda, non sono più così tanto d'accordo, su quanto detto, da Di Play, non tanto, perché quello che dice Di Play, non è vero, è assolutamente vero, e anzi, fa riferimento esclusivo, alla verità processuale, ma, mi sono accorto di un'altra cosa, e scusate, ma, faccio la prima pausa, bevuta, e avvo la prima parentesi. In settimana, qualcuno ha scritto su Instagram, un messaggio privato, dove, faceva i complimenti per il podcast, ma diceva, se mi ricordo bene, che, eh, ho la tendenza ad essere prolisso, cosa che, eh, è abbastanza, la palissiana. Ehm, ma, mi ha fatto pensare, ovviamente, come, come tutte le critiche, educate, costruttive, c'ho riflettuto. Il problema che io ho con, con i podcast crime, e il più delle volte, che non ascolto, cioè, quindi, quando li ascolto, il problema che ho, è che il più delle volte, non fanno altro che raccontare, una serie di fatti, che è interessante, per carità di Dio, però, non c'è mai un approfondimento, non c'è mai una, provare a dare, un'interpretazione diversa, a immaginare qualcosa, a immaginare qualcosa di diverso, a immaginare una situazione, a provare a immaginare i sentimenti, che hanno mosso quella persona, a provare a immaginare, cosa è successo, in una stanza, cosa è successo, nella mente di una persona, cioè, di provare a nannare, un po' oltre, la sentenza, c'è sempre, semplicemente un, prendo la sentenza, tiro fuori la parte narrativa, e la narro, che è fighissimo, c'è Luca Velli, c'ha costituito una carriera, su sta roba, bravissimo, però, a me piace provare, a immaginare, anche oltre, no, e quindi, magari a perdere tempo, una puntata, su un dettaglio, però, per me, quel dettaglio è importante, no, faccio un esempio, recente sulla strage di erba, l'uscita di scena, dei protagonisti, piuttosto che il perché, chi ha piccato l'incendio, è restato dentro, quei minuti in più, no, per me, queste cose sono importanti, perché poi sono quelli, cioè, sono i dettagli che creano una grande storia, no, anche nei romanzi, è il dettaglio che, che poi crea, che rende la storia così vera, la storia in sé, è una storia anche abbastanza banale, in un certo senso, questa storia, quella delle bestie di Satana, invece non è una storia banale, da nessun punto di vista, un altro fattore che mi ha fatto propendere, per la, per scegliere appunto questa cosa, è che in realtà accade tutto, in Lombardia, in dei luoghi, non dico che conosco bene, però, che ho conosciuto nella mia vita, in cui sono passato, in cui comunque, Miss Legnano, Brugherio, tutta la Brianza, sono dei luoghi, comunque, non ho, non sono luoghi familiari, ma sono luoghi che conoscono, e quindi, quando il luogo è conosciuto, in qualche modo, ti sembra di poter toccare con mano, i protagonisti, e proprio la storia, mi interessa molto, perché la storia è violenta, è violenta dentro, c'è un disagio, clamoroso in questa storia, che emerge, e mi interessa, perché la storia, che come viene descritta, dalle sentenze, è complessissima, articolatissima, in realtà, secondo me, è molto più semplice di così, è stata, la storia, non so se lo sapevate, più conosciuta, la storia italiana, il crimine italiano, più conosciuto all'estero, fino a Meredith Kersh, perché appunto Meredith Kersh era inglese, e quindi ha avuto risonanza, Amanda Knox era americana, e quindi ha avuto risonanza oltreoceano, ma fino a quel momento, ma probabilmente adesso è ancora la più famosa, infatti ci sono tantissimi, insieme ovviamente al mostro di Firenze, però il mostro di Firenze, diciamo è un capitolo a parte, la cosa clamorosa è proprio questa, cioè che, le bestie di Satana non solo hanno segnato un'epoca in Italia, ma hanno segnato un'epoca un po' in tutto il mondo, a livello proprio di risonanza mediatica che ha avuto questo caso, e quindi questo caso è così interessante, perché ci sono tanti protagonisti che sono ancora vivi, ma ci sono anche tanti protagonisti purtroppo che non ci sono più, ci sono tre omicidi, c'è un duplice omicidio più un singolo omicidio fondamentali, che sono l'omicidio di Mariangela Pezzotta, e il duplice omicidio di Fabio Tolli, Secchiera Martino, che avvengono a distanza di sei anni, nel 98 Fabio Tolli, Secchiera Martino, e nel 2004, Mariangela Pezzotta. Ci sono una serie di suicidi indotti, due nello specifico, uno dato per certo, e uno invece divertente, cioè divertente ovviamente no, ma vi spiegherò cosa intendo per divertente, uno è quello di Andrea Bontade, ma, e questo lo prendo da Wikipedia, ve lo cito così vi faccio capire come in realtà è una faccenda molto nota, ma allo stesso tempo, quando vuoi andare a prendere le informazioni è difficile, vi spiego, nel corso degli anni, circa 16 persone, su Wikipedia ne sono citate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, però sono 16, 16 persone nel periodo in cui la setta è stata attiva, quindi diciamo da fine agli anni 90 fino al 2004, 16 persone che avevano una qualche relazione con qualche componente della setta, si è tolto la vita o è morto in circostanze strane, e quindi in qualche modo la setta secondo la vulgata popolare è coinvolta in questo omicidio, in queste sparizioni, in queste morti strane, e i suicidi indotti appunto come quello di Andrea Ballarin, come quello di la sparizione di Cristian Frigerio, sto leggendo a Wikipedia ma sono quelli più famosi, Luca Colombo, e anche Antonio Grasta, che spariscono o vengono trovati suicidi in circostanze strane, sono tutta una serie di morti che gravitano intorno a questo nucleo fondamentale che è composto da questa setta che analizzeremo. Iniziamo a partire in questa puntata che è un'introduzione, quindi come sapete l'introduzione vuole un po' incuriosirvi, è un po' l'antipasto poi delle portate principali. Quando inizia questa vicenda? In realtà questa vicenda inizia nel gennaio del 1998. Tutti i podcast che parlano della vicenda in realtà iniziano nel 2004. Perché effettivamente la vicenda inizia nel 2004, ma io vi voglio raccontare la storia in ordine cronologico, anche se succedono un bel po' di cose prima del 1998, però mi interessa un particolare che adesso vi dico. 17 gennaio 1998 Fabio Tollis sotto... Fabio Tollis che è una vittima, perdonatemi, ripeterò tantissimo i nomi, perché siccome sono tanti personaggi, non è come negli altri casi dove ci sono tre o quattro, ma ci sono tanti personaggi, devo ripetere spesso i nomi così fate meno fatica a ricordarveli. Fabio Tollis chiama a casa verso le 11 di sera per dire a suo padre che avrebbe dormito fuori quella notte. Sono al Midnight, che è un locale nella periferia milanese che suona della musica metal, rock metal. E qua apro un'altra parentesi. Io, quando ero piccolo, e piccolo intendo scuole superiori più o meno, ho ascoltato tantissimo metal. Mi piaceva particolarmente. E se Twitch non fosse così un pochettino chiuso, no? Sulle playlist, avrei messo qualche pezzo metal in sottofondo per dare una cornice d'eccezione al podcast. Questo non vuol dire che io sia un metallaro o sia mai stato un metallaro. Dio me ne scampi. Ma conosco abbastanza bene la scena metal, almeno quella di una volta. Conosco benissimo i legami che ci sono tra satanismo e musica metal. So benissimo che il 99% è tutta scena. Mi ricordo... Faccio qualche esempio, così capiamo. Mi ricordo benissimo che ci sono delle band, soprattutto black, death, metal, che fanno di questa esagerazione satanista un po' il loro stile. Qualcuno mi dice Marilyn Manson, ma Marilyn Manson è quello anche più commerciale, se vogliamo. Però c'è anche un metal un pochettino più estremo. Mi vengono in mente i Muborgir che a un certo punto decidono che volevano la pelle umana di una tribù africana per farsi dei costumi da portare da portare in tour dopo che avevamo fatto un tour mi pare con le testi del diavolo con quelle robe del genere. Ci sono mille esempi che uno potrebbe fare di lyrics, quindi dei testi di canzoni di queste band, ma va bene, io non le ho ascoltate, ma ovviamente non era quello il punto. Quindi conosco la scena, conosco altrettanto discretamente bene la scena invece nord-europea, quindi Burzum e compagnia, cioè gente che ha dato fuoco a chiese, ha ammazzato gente, è finita in prigione, sempre di quell'ambito, quindi gente che ha preso il satanismo un pochettino più sul serio di un paio di canzoni. E quindi conosco bene la scena e proverò anche a portarvi in questo mondo che però vi garantisco con il satanismo ha praticamente nulla a che fare, ovviamente. Siamo al Midnight che è un posto dove io non sono mai stato, fortunatamente, anche perché io sto bene a casa mia, essendo pigro, ma è un locale appunto dove suona, dove i proprietari che sono due metallari, Rossella mi confermerà, io così ho letto su varie fonti, mettevano nella musica appunto metal, rock e sapevano birra e comunque è un luogo di ritrovo, Classico luogo milanese dove metà stanno dentro, metà stanno fuori, si beve, si conosce in gente. I metallari poi mediamente sono delle persone anche abbastanza affabili ed è il luogo di ritrovo di queste, di questo gruppo di amici che per il momento questa puntata la chiameremo una setta, in realtà non è una setta, ma ho bisogno di tempo per spiegarvi cosa intendo, quindi per questa puntata va bene così, dove si avvenisce questo gruppo di amici che si autoproclama, anche se non è vero, le bestie di Satana. Sono le 23 circa e Fabio Tollis su suggerimento di un altro personaggio di cui adesso non parliamo, non parliamo perché non voglio introdurre altri personaggi se non se non le vittime in modo che appunto poi la puntata successiva sia più chiara. Fabio Tollis chiama a casa e dice che avrebbe dormito fuori a casa della sua ragazza Chiara Marino. In realtà il rapporto tra Chiara e Fabio non è chiarissimo. Gli amici dicono che stesse nascendo cioè si conoscevano da un po' ma fosse nata da poco qualcuno diceva capodanno contate che siamo al 17 di gennaio quindi è nata da poco una piccola amicizia peperina visto che bisogna dire peperina almeno una volta appuntata e e si stanno conoscendo il papà di Fabio Tollis che giocherà un ruolo fondamentale molto più di quanto viene ascritto secondo me giocherà un ruolo fondamentale in questa vicenda al sospetto e io sono convinto che siano di quei sospetti genitoriali che non hanno una logica dietro ma sia quel sospetto che i genitori soprattutto un sospetto molto femminile intuiscono quando la parole è in pericolo anche se a distanza magari da un'inclinazione del tono della voce da una serie di cose hanno la sensazione che ci sia qualcosa che non va ripeto non è una cosa logica non è una cosa razionale ma è proprio un istinto di sopravvivenza e di di difesa molto molto potente il signor Tollis gli dice no non puoi restare fuori vengo a prenderti e si precipita al midnight ma quando arriva al midnight non trova più il figlio quindi non trova più Fabio e non trova più Chiamarino ma trova alcuni personaggi del gruppo dove il figlio che scusate il gruppo che il figlio frequentava lo chiamiamo le bestie di satana ma poi ripeto chiederemo il concetto che gli dicono che Chiara e Fabio sono andate ad appartarsi e che entro mezzanotte e mezza sarebbero tornati perché Chiara doveva prendere il tram con un membro della setta che invece era lì presente al midnight e quindi entro mezzanotte e mezza sarebbero tornati ovviamente i fatti ci dicono che poi non sarebbero mai tornati a casa in realtà in quei minuti mentre il povero signor Tollis che è un uomo che ha sofferto le pene dell'inferno come tutti i genitori che hanno la sfortuna di sopravvivere ai propri figli in quei momenti tre persone adesso dico i nomi ma giusto così Andrea Volpe Nicola Sapone e Maccione non mi ricordo il nome se qualcuno me lo dice me lo scrive al volo no ce l'ho scritto forse Mario Maccione eccolo qua Mario Maccione tre persone con una macchina guidano in un bosco vicino alla zona di Malpensa per chi è Lombardo portano in questo bosco Fabio Tollis e Chiara Marino i racconti su questa notte sono decine sono tutti diversi la dinamica è folle ma abbiamo per l'ennesima volta su di Pencrimini la dimostrazione che l'essere umano è in grado di fare delle cose meravigliose e vi invitano ad andare in qualsiasi città europea in una qualsiasi cattedrale e entrare e non pensare che l'essere umano sia in grado di fare delle cose meravigliose ma allo stesso tempo che abbia dentro di sé una radice maligna che è molto difficile esterpare e in quel bosco che poi ricostruiremo cercheremo di capire cosa succede effettivamente ma adesso vi sto soltanto raccontando i fatti per farvi entrare in questa vicenda così malata in quel bosco avviene qualcosa di tremendo Chiara e Fabio vengono attaccati vengono massacrati Fabio è un ragazzo molto grosso fisicamente quindi servono due più di una persona per per averla meglio su di lui vengono massacrati vengono coltellati vengono presi a sprangate vengono lanciati in una fossa che era stata precedentemente scavata pronta per accoglierli viene e nonostante tutte le botte nonostante tutto il dolore causato Fabio Tollis ancora respira ed emette dei gemiti questo ce lo dicono Mario Macione e Andrea Volpe e allora Nicola Sapone secondo questi racconti infilerà un riccio in bocca a a a Fabio Tollis per zittirlo per sempre una volta uccisi verranno umiliati ancora di più perché Nicola Sapone secondo ripeto questi racconti urinerà addosso ai cadaveri prenderà una sigaretta che intingerà nel sangue di Fabio Tollis e fumerà questa sigaretta insanguinata e poi in seguito i cadaveri verranno coperti con la terra e appunto abbandonati in questo sperduto bosco nella nella brillanza Lombarda questo è il primo duplice omicidio forte primo caso mediatico clamoroso signor Tollis andrà su chi l'ha visto c'è la sua intervista e signor Tollis mai mai smetterà di cercare il suo figlio che in cuor suo sa essere morto ma mai smetterà di cercare il figlio e subito intuisce che la compagnia che frequentava Fabio e che frequentava Chiara in qualche modo sapeva più di quanto non stesse affermando e quindi erano lì che doveva indagare signor Tollis per arrivare poi alla scoperta dei corpi e in realtà aveva ragione perché nel 2004 il 24 gennaio che è una data il compleanno di Lucia il 24 gennaio oggi quando mi scrivevo le date ho detto 24 gennaio del 2004 in uno chalet che in realtà è una specie di casetta nel bosco di Elisabetta Ballarin c'è Andrea Volpe e due sono chiusi in questa in questa casetta sperduta nel bosco da giorni hanno bevuto e hanno consumato ogni stupefacente disponibile finché Andrea Volpe chiama la sua ex ragazza tale Mariangela Pezzotta e con una banale scusa Sissi Corpi sono stati trovati bra un giorno 88 assolutamente ma poi analizzeremo i vari delitti uno per uno perché dobbiamo capire un po' di cose comunque Sissi Corpi sono stati trovati Mariangela Pezzotta si precipita a casa dell'ex fidanzato alle 11 e mezza di sera perché lui le dice lei era una ragazza purtroppo molto molto buona così ce la ce la descrivono i familiari una ragazza che innamorata perdutamente di questo di questo ragazzo Andrea Volpe molto disturbato tossicodipendente problemi mentali che tra l'altro è appena stato liberato quindi salutiamolo se c'è qualcun avvocato che ci segue poi magari ci scambiamo gli indirizzi in modo innamorata folle di Andrea Volpe lo raggiunge in questa casa in questa casa anche qua ci sono tutta una serie di versioni che andranno a affiorare per spiegare quanto successo fatto sta che la faccio breve scoppia scoppia una lite tra Maria Angela e Andrea Volpe Andrea Volpe che ripeto non era lucido perché era sotto l'effetto di sostanze ma aveva con sé una Smith & Wesson che è una pistola a tamburo lui dice che parte un colpo in realtà è più verosimile che abbia sparato un colpo ma ripeto poi analizzeremo i vari delitti e Mariangela si accascia per terra ha un colpo al volto ma è ancora viva a quel punto Elisabetta Ballarin e Andrea Volpe cercheranno di seppellirla viva nella serra di famiglia ma non riescono perché sono troppo fatti allora chiameranno Nicola Sapone che è uno dei tre che aveva partecipato all'omicidio precedente al duplice omicidio di Fabio Tollis e Chiamamarino e Nicola Sapone si precipita allo chalet e secondo la testimonianza di Andrea Volpe finirà lui con una con una vanga sul volto quindi distruggerà la metafaccia alla povera Mariangela Pezzotta la mattina dopo per non dare nell'occhio ovviamente sto scherzando per alleggervi un po' l'attenzione e poi per non dare nell'occhio Elisabetta Ballarin e Andrea Volpe volevano buttare nel fiume in un fiume lì vicino la macchina di con cui era arrivata Mariangela Pezzotta soltanto che siccome appunto non erano lucidi si incastrano in un ponticello incastrano la macchina in un ponticello a quel punto Andrea Volpe che è completamente fuso scende dalla macchina e inizia a prendere a calci tutte le macchine che vede parcheggiate inizia a urlare con un disperato e quando arrivano i carabinieri dice che 20 persone hanno provato a violentare la sua ragazza e lui è dato in scandiscenza ovviamente racconto abbastanza che lascia il tempo che trova ma in realtà attiva su di sé l'attenzione della polizia che dopo pochi minuti si vengono portati allo chalet dove trovano il corpo di Mariangela Pezzotta perché è stato sotterrato male e quindi spuntava mi sembra un piede o delle dita o comunque si vedeva e da lì entrano in questa casa devastata dalla spazzatura dal disordine dalle droghe c'è anche un boa che lascerà una grandissima impressione del giudice di primo grado il boa poi vi spiegherò perché e si accorgono subito che grazie mille Leonardo a scorti che si è abbonato per due mesi grazie mille un bacio un abbraccio un cuore grazie mille a Leonardo ma si accorgono subito gli inquirenti che in quella casa è successo è successo qualcosa di più e iniziano a indagare e poi arriveranno le loro indagini ma cosa succede di molto interessante il giorno dopo quando ancora non era chiaro nulla se non che era morta Mariangela e una delle scene una delle interviste secondo me più strazianti è al padre di Mariangela Pezzotta che quando riceve una chiamata da un numero mi pare sconosciuto quando Mariangela non è tornata a casa e lui sapeva che era andata da Andrea Volpe risponde al telefono e dice me l'hanno questa volta me l'ha uccisa perché anche lui come il papà Tollis in questa situazione folle aveva il presentimento che Andrea Volpe non fosse necessariamente il miglior partito a cui poteva aspirare la figlia e purtroppo ha avuto tristemente ragione cosa succede il giorno dopo quindi il 25 di gennaio che esce sui giornali la notizia della morte della povera Mariangela delle indagini ma le foto di Andrea Volpe e di Elisabetta Ballarin il signor Tollis io me lo ho questa scena in testa che non è andata così ma nella mia testa è andata così che si alza tutte le mattine e che leggi i giornali tutte le mattine come le persone di 50 anni fa è successo nel 2004 quindi non era 50 anni fa però delle persone che hanno che si sono formate in un'altra epoca che quindi tutte le mattine si alzano e leggono il giornale e quindi immagino il suo salto metaforico sulla sedia quando sfogliando il giornale vede Andrea Volpe e Elisabetta Ballarin Elisabetta Ballarin non la conosceva poi vi racconterò la storia di Elisabetta Ballarin ma non la conosceva ma conosceva molto bene Andrea Volpe lo conosceva bene perché era sicuro e anche questa questa è una vicenda di sensazioni e adesso chiudo spiegandovi perché io sono sicuro che il signor Tollis ha avuto la sensazione dal primo minuto che si è recato al midnight quella notte che le persone legate a quelli che avevano fatto qualcosa di terribile ed è una sensazione giusta così come aveva la sensazione che suo figlio era in pericolo quando si è precipitato nel cuore della notte di un sabato sera di gennaio quindi un sabato sera tendenzialmente freschino quando si è precipitato a prendere il figlio perché aveva questa sensazione e io sono sicuro che avessi la sensazione che Andrea Volpe così come Nicola Sampone e altri avessero un ruolo nella vicenda piuttosto chiaro e quindi quando vede sul giornale la faccia di Nicola Sampone di Andrea Volpe legata a un'altra morte si veste prende una valigetta che è la valigetta più importante della sua vita perché è la valigetta dove ha conservato tutti gli articoli che parlavano di due cose fondamentalmente di suo figlio della sparizione di Fabio Tollisi Chiara Marino una sparizione mai indagata troppo e questo avrà uno strascico gravissimo secondo me nel processo e anche di tutte quelle sparizioni legate a quell'ambiente satanico esoterico che hanno flagellato la Brianza e in generale la parte a nord di Milano nord-est nord-ovest di Milano si precipita dagli inquirenti e dice signori non mi avete ascoltato per sei anni ma io ho delle cose da dire e grazie a Fabio Tollis parte una ricostruzione di tutte le bestie di Satana le bestie di Satana ha portato a una serie di condanne piuttosto forti ve ne leggo alcune poi non ho analizzato il suicidio di Andrea Bontade e altri ma le analizzeremo vengono condannati vi faccio soltanto l'elenco delle condanne Nicola Sapone ha due ergastoli per Fabio Tolli si chiama Marino e Mariangela Pezzotta due ergastoli esilamento diurno i tre anni Paolo Leoni e Marco Zampollo a 26 anni Elisabetta Ballarin 24 anni e Ros Monteros a 24 anni Andrea Volpe già condannata a 30 anni viene ridotta a 16 ma adesso è libero anche la Ballarina adesso è libera c'è stata una serie di riduzioni ma neanche troppo gravi cosa succede? succede quindi comunque pene gravissime a 6-7 persone ultimo goccino e poi chiudiamo la puntata succede e ve lo spiegherò tra due puntate che gli inquirenti che hanno la netta sensazione che Fabio Tolli sarebbe ragione cioè che ci sia qualcosa di strano nel gruppo hanno zero prove e quindi siccome hanno zero prove ma hanno una serie di persone tossicodipendenti molto psicolabili e molto in difficoltà abbia la sensazione che non ci sono prove ma che forzando la mano qua e là qualcosa sarebbe venuto fuori ed è qua il momento in cui Andrea Volpe decide di collaborare e quindi tutte le condanne tutto quello che noi sappiamo sulle vesti di Satana in realtà deriva da un racconto la testimonianza di Andrea Volpe testimonianza che poi viene anche supportata da Mario Macione e da altri testimoni ma testimonianza che analizzeremo molto molto in profondità in realtà svela delle crepe abbastanza evidenti questo per dire che la vicenda delle bestie di Satana non è una vicenda così chiara soprattutto la parte satanica la parte diabolica la parte dove i loro delitti misfatti i loro crimini siano legati a a una motivazione appunto satanica su questo in sentenza è scritto abbastanza chiaramente che di componente satanica ce n'era ben poca eppure questi delitti infatti i corpi di Fabio Tollis e di Chiamamarino sono stati fatti scoprire appunto da Andrea Volpe che rivela la location appunto di questo massacro e permette di far ritrovare i corpi dei due fidanzati cosa fondamentale perché da quel momento la procura decide che tutto quello che dice Volpe è giusto siccome ha fatto trovare i corpi tutto quello che dice è giusto il problema è che ogni tanto dice delle cose un po' troppo per esempio chiudo con questo esempio che quando l'ho letto ho letto ma come a un certo punto lui dice sto parlando di Andrea Volpe dice che lui Paolo Leoni no non era Paolo Leoni Paolo Leoni e Nicola Sapone hanno impiccato fingendo un suicidio il 7 maggio del 1999 Andrea Ballarin che non è imparentato con Elisabetta con Elisabetta Ballarin l'hanno impiccato in una scuola a Somma Lombardo tra l'altro scuola vicino molto vicino al boschetto dove ci sono Fabio Tollis e Chiara Marino e quindi lui si accusa di questo omicidio e accusa anche gli altri gli inquirenti contentissimi di questa cosa finché l'avvocato difensore di Nicola Sapone che all'epoca non era ancora Paolo Franceschetti porta un documento e il passaporto di Nicola Sapone che dimostra in maniera inequivocabile che in quella settimana Nicola Sapone era a Cuba non è che era a Pavia che dici cazzo magari lì no era a Cuba quindi che non poteva in nessun modo essere legato alla vicenda e quindi notiamo come a un certo punto Andrea Volpe inizia a confessare delle cose inizia a tirare dentro delle persone e confessioni che gli faranno guadagnare degli sconti di pena clamorosi contate che è libero adesso e nel 2004 ha ammazzato una persona comunque se non l'ha ammazzata lui comunque era in concorso e ne aveva ammazzate altre due sei anni prima adesso è libero quindi immaginate anche la no che sconti di pena abbia abbia accumulato grazie alle grazie a queste confessioni eppure a un certo punto confessa di aver ucciso una persona con altre due persone ma di sicuro non è andata così perché una delle due persone che lui dice abbiano fatto parte di questa operazione era a Cuba e quindi con questo chiudo si può credere interamente a una persona che dice queste cose se no quindi se la risposta è no le bestie di satana esistono la mia risposta è nì perché effettivamente ci sono delle cose strane legate alle bestie di satana ma con questo io vi lascio vi auguro una buona Pasqua ancora questa quest'ora e mezza di Pasqua che ci rimane una buona Pasquetta spero di sentirvi presto magari una puntatina sorpresa nei prossimi giorni magari già domani chi lo sa non prometto niente visto che domani è Pasquetta io ho tutta l'intenzione di riposarvi riposarmi spero che questa puntata vi sia piaciuta e di aver acceso un pochettino la vostra curiosità io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro una buonissima notte ciao a tutti grazie